Il grande successo di One Piece probabilmente porterà al rinnovo della seconda stagione della serie di Netflix, ma quando arriverà questa seconda stagione? Andiamo a scoprirlo insieme. One Piece è stata la serie più vista in oltre 80 paesi in tutto il mondo, superando addirittura Stranger Things e Mercoledì. Quindi con molta probabilità entro la fine dell'anno arriverà il tanto atteso annuncio dai fan per il rinnovo della seconda stagione di Netflix. Ma cosa ci attenderà in questa seconda stagione? Beh, probabilmente si aggiungerà alla ciurma di Cappello di Paglia un nuovo membro e rappresenterà una delle sfide più alte a livello di budget per una serie Netflix. Perché la realizzazione di Tony Tony Chopper, il medico della ciurma di Cappello di Paglia, non sarà una sfida facile. Essendo un imbrido umano-renna, Chopper sarà difficilmente realizzabile, ma anche questa è una sfida che Netflix ha accettato a buon viso, in quanto la realizzazione di Chopper prevederà un grande utilizzo della CGI e degli effetti visivi. Il nuovo membro della ciurma di Cappello di Paglia caratterizza il suo potere tramite delle trasformazioni che utilizza a seconda della necessità e del momento che richiede anche la battaglia. Una delle isole che incontreremo nella seconda stagione, quando verrà confermata, è l'isola di Tamburo, quella dove abita appunto Chopper. Qui potremmo vedere il primo grande nome di un casting per la serie di One Piece, ovvero Jamie Lee Curtis nei panni della Dottoressa Corea. La Curtis è una grandissima fan del prodotto scritto e da Oda, e quindi ha espresso direttamente la sua voglia di partecipare alla serie proprio nei panni di Corea, che vedremo appunto nella seconda stagione, in quanto molto importante per l'acco narrativo di Chopper. Oltre all'isola di Tamburo arriverà probabilmente l'isola di Rocktown, ed è la prima isola che dovremmo incontrare nella seconda stagione, in quanto, vista la scena post-credit della prima stagione che vedeva Smoker bruciare il manifesto da ricercato di Luffy, qui arriveremo con i membri della ciurma di Cappello di Paglia, proprio a Locktown, o Rocktown, come preferite. Qui incontreremo il villain, che molto probabilmente sarà Smoker, e approderanno i membri della ciurma di Cappello di Paglia, nell'isola dove Goldie Roger è stato giustiziato e che abbiamo intravisto all'inizio della prima puntata. Molto probabilmente il grande villain della prossima stagione sarà Crocodile, un Crocodile che è stato accennato in alcuni discorsi durante la prima stagione, in quanto leader delle Baroque Wars, e probabilmente l'acco narrativo si sposterà direttamente dalla basta. Qui avremo appunto un altro membro della ciurma di Cappello di Paglia, che dovrebbe apparire nella seconda stagione, ovvero Nico Robbini. Stesso discorso vale per un altro personaggio molto importante, e membro indiretto della ciurma di Cappello di Paglia, che è comunque importante per la trama di alla basta, ovvero Vivi. Molti si stanno già preoccupando per la realizzazione della seconda stagione, in quanto il potere di Crocodile prevede la manipolazione della sabbia, ma abbiamo già un esempio di quanto Netflix sia riuscita a realizzare questo potere in Sandman, dove il protagonista manipolava la sabbia dei sogni, quindi questo potrebbe essere già un buon inizio per rappresentare Crocodile in live action, un Crocodile che diventerà quindi importante per la seconda stagione, dove sarà il villain principale che la ciurma di Cappello di Paglia dovrà sconfiggere per proseguire il loro viaggio. Una sorpresa per i neofiti di Netflix, che guardano soltanto la serie live action, potrebbe essere uno dei personaggi più importanti per quanto riguarda Luffy, ovvero Portogast di Ace. Non dirò niente in quanto è una sorpresa incredibilmente appassionante e se dovesse riuscire la realizzazione dei poteri di Ace in live action, credo che lo scoglio più grande sia quasi superato per Netflix, che potrebbe definitivamente consacrare One Piece come una delle serie portanti della piattaforma streaming. Ragazzi, per il momento purtroppo non abbiamo una data per la seconda stagione, ma sicuramente arriverà almeno l'annuncio prima della fine dell'anno, magari in un todum organizzato appunto da Netflix, che ci finalmente libererà di questo dubbio e di questa voglia di seguire live action. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, io vi ricordo di iscrivervi al canale e seguirci per tutte le altre informazioni che riguardano serie TV e film, quindi grazie a tutti da Valerio Perrone e da Ciacchiazioni. Ciao a tutti.